Chiedere è il nostro diritto, nessuno può andare via, io non vado via dal giorno, io devo mantenermi qui, questi signori sono questo, attenzione, l'EMI è una partecipazione di questa TAP, quindi lo Stato ha il diritto di risarcire tutti i cittadini, per i danni subiti, attualmente mettono calcestruzzo comunque per coprire i danni che hanno fatto, mettono centraline all'interno dello stabilimento per monitorare l'aria, non l'hanno fatto mai in 30 anni, questa è vostra competenza, perché io cammino su un suolo pulito, non vedo quello che c'è, non dovete chiedere, è un vostro diritto, è un nostro diritto, essere risargete, le famiglie di Gela soprattutto, non le lavorate di Gela, quindi io non devo essere sottomesso a nessuno, qui sembriamo che sposiamo tutti la stessa causa, spero che sia così, spero che sia così, che sposiamo tutti la stessa causa e non facciamo interesse di partito, questa spero che sia un appello alla città di Gela di unirsi, di lottare uniti, per poter vincere e non avere la miseria. Grazie signor Magalhães.